Iniziamo, 2, 1, missione e ripetendo! Ho scoperto che con la modalità in prima persona ce lo si goda un pochino di più come sparatutto e soprattutto si subisce meno il gioco dei giocatori esperti perché giocando in terza persona è possibile ruotando la visuale vedere dietro angoli senza andarci fisicamente quindi la gente comunque rifugiata all'interno di una casa non sa se sotto la finestra ci sia qualcuno e quel qualcuno può a sua volta usando la telecamera guardarsi intorno. Mentre invece la prima persona è molto interessante perché voi non potete muovervi a parte l'inizio quando scendete in paracadute non potete vedere se non quello che vede il vostro personaggio se non che con il tasto alt potete girare la testa mentre magari vi muovete in una direzione premendo alt guardate intorno così come quando siete fissi fermi rimanete magari con la pistola puntata di là e vi guardate intorno o mentre magari andate via e guardate ai lati chi c'è. E questo è molto interessante come meccanica benché io dopo quasi 180 ore non abbia mai vinto una partita ma il gioco comunque continua a darmi le soddisfazioni mi piacerebbe magari una volta portarlo anche in live. Questa per chi non lo conoscesse è la lobby iniziale dove è possibile giocare a calcio vedere le altre persone che vi sfideranno sul campo di battaglia e questa è la mappa. Questa è una mappa ne hanno giunte parecchie della verità questa è una mappa con degli aviolanci speciali con anche dei mezzi hanno un po' stravolto il gioco inizio a puntare una zona dove mi piacerebbe andare proviamo a vedere lì chi si fermerà anche perché siamo vicino un helipad queste sono zone quelle con il nome zone abbastanza ricche di loot ma a me non interessa. La prima persona ecco mi ha trovato anche un pochino più agevolato perché la mira per quanto voi la potete fare sia mirando col mirino che rimanendo diciamo senza la modalità mirata. E' più precisa della terza persona perché la terza persona non tiene conto di eventuali ostacoli ringhiere attraverso cui state sparando e che magari colpiereste. Diciamo che mi ha cambiato tanto la vita perché mi sono ritrovato ad essere molto più preciso comunque io adesso inizio già ad andare tanti sono scesi vedete stanno andando dove sto andando io verso probabilmente l'helipad che è lì. La visuale in terza persona come vi dicevo è disponibile solo in questa zona solo quando vi lanciate col paracadute in modo da potervi comunque orientare. Ora quando atterreremo passeremo definitivamente alla prima persona c'è gente che sta scendendo qui tra l'altro in modo molto più veloce di me quindi io me ne vado. Che dire sono scesi nel mio luogo quindi io me ne vado me ne vado il più velocemente possibile possibilmente verso magari quelle case là dietro. Stanno già iniziando a sparare quindi io avrò vita assolutamente breve ma veramente breve. Vediamo. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Vedete questa è la modalità in prima persona. Quella che abbiamo già visto prima nella lobby. Ho preso un fucile a pompa, uno zaino e inizio ad andarmene verso le case. Qui sono abbastanza sicuro non ci sia nessuno, ultime parole famose. C'è anche una moto quindi la prenderò dopo quando dovrò andare nella zona che non è lontanissima a dire la verità perché questa è una mappa piccola, non è una mappa da 100 persone. Io poi continuo a gestirlo male questo gioco perché bisognerebbe usare il tasto tab per luttare a terra. Vediamo se riesco a trovare una delle mie armi preferite, questa. Poi iniziate a farvi anche... Se vi dico per quanti di voi magari non hanno grande dimestichezza con questo titolo, sono sempre morti, sappiate che anch'io. Però giocando così in prima persona ho fatto più kill nelle prime partite che negli ultimi mesi dove ho giocato in terza. Quindi hanno aggiunto un sacco di roba, i daroni, tante cose davvero interessanti. Io mollerei il pompa, mi prendo il beryl. Ok. Vedete che voi potete mirare premendo una volta e basta, mirate così. Ma è scomodissimo perché vi vibra tutta la visuale. Se invece tenete premuto, mirate così e siete molto più stabili. Questo non so se è un cheat, però insomma la mira è decisamente altra cosa. Ora, dobbiamo vedere dove era la moto. Siamo arrivati da qui. La motoretta era di là. Cioè il mio senso dell'orientamento è qualcosa di scandaloso, davvero. C'è una moto qua. Che tra l'altro ho anche scambiato sulle prime per qualcun'altra. 10 secondi si restringe il mondo, quindi morirò in modo assolutamente idiota. No, ma non intendo mullare. In questo gioco è fondamentale, assolutamente fondamentale, ascoltare. Quindi ascoltare i passi. Questa è una di quelle mappe dove c'è una mappa, ma non so se è questa. Eccola là. Dove c'è la possibilità, nel caso di morte, di rientrare in partita nella fase finale, vincendo un'arena, un po' come il Gulag su Call of Duty. La visuale invece in prima persona non aiuta dal punto di vista della guida, perché diciamo che le minchiate che fate in questo caso non sono proprio comodissime da fare in prima persona. Però, ci proviamo. Una volta ho fatto dei salti, mi sono girato a 360. Allora, siamo scesi di qua. L'aereo passato di là. Dobbiamo andare di là. Ok, vediamo, vediamo. Intanto... In una mappa piccola come questa, andare con una moto è come dire... Come appiccicarsi a un enorme bersaglio sulla schiena e dire Sparami. Però, al momento, dobbiamo avvicinarci alla bolla. La bolla è lì. Quello che ho notato, io non sono stato mai un grande fan di quegli airdrop, però devo dire che rilasciano delle cose potenti. Adesso mi stanno sparando e non capisco da dove. Però, al tempo stesso... Al tempo stesso, anche il nemico ha i miei stessi problemi. Nel senso che è costretto a mirare in prima persona. Quindi non può sgamarmi usando semplicemente la telecamera, ma siamo ad armi pari. Ora... Il tizio è lì fuori. Fuori dalla bolla. Quindi sicuramente deve arrivare qui. La pentola l'avevo già presa, che è comodissima. Questo potrebbe arrivare anche da dietro. Quindi io mi metto qui. Lo aspetto. Potrei dare l'idea di essere fuggito fuori. Vediamo. Sarebbe il massimo far vedere una kill. Vediamo un attimino se si sente qualcosa. Si sente sparare. Adesso. Il tipo sa benissimo che io sono qui. Ma io non sapevo dove era lui. Sicuramente... Si è sgamato a lanciare dentro una bomba. Però ecco. Che va a perfezionare assolutamente il capire da dove ci stanno sparando. Perché... Questa ha lanciato una bomba. E qua c'è anche una porta. Arriva. Arriva. Ho sentito camminare. Si stanno sparando tutti qua fuori. Quindi potrebbe avermi anche confuso con qualcun altro. Vedete quanto è semplice uccidere se avete... Fate attenzione alla giocata tattica. In terza persona è molto più complicato. Minutare per... Cambio il giubbotto. Eh no, il giubbotto glielo ho ridotto male io. Quindi... Niente, sto aspettando troppo. Bisogna assolutamente andare. Anche perché la bolla un minuto e mezzo riparte. Comunque stavano sparando qua. Quindi... O mi... In prima persona è bello perché se vi mettete bassi e camminate lì in mezzo non vi vedono. Ecco, anche adesso... Eh, vedete? Sono morto in modo tremendamente stupido. Mi hanno ucciso con un fucile a cecchino. Probabilmente di quelli a ripetizione. Vediamo subito come siamo morti. Così giusto per... Ovviamente... Adesso... Il ragionamento potrebbe essere... Non sono un pro, non ci gioco. Sono morto in modo stupido. Sì, assolutamente sì. Ma ero io stesso consapevole di non essere a mio agio con la mappa né con quello che stavo facendo. Infatti mi stavo muovendo un po' così senza circospezione. Adesso il tipo... Io non ho visto dov'era. Però quello mi ha visto. Non sapevo minimamente da dove mi stesse sparando. Era anche silenziato. Quindi non si capiva. Adesso il tipo adesso sta andando a prendere quell'air drop che l'elicottero sta lanciando. Quindi ecco. Ci sono tornato su questo gioco dopo più di un anno, due anni insomma che non ci giocavo. Non è male. È un bel passatempo. È free to play. Ovviamente adesso io non so nulla di quello che è il discorso a pagamento. Potete sbloccarvi cose estetiche. C'è tutta una serie di menu. Ma io non li ho mai guardati, vi dico la verità. Pertanto farvi capire che il gioco è fruibile a tutti. Perché potete qua scegliere e giocare direttamente. Dovete fare un addestramento all'inizio, un piccolo tutorial. Ma alla fine avete un numero limitato di addestramenti con i bot. E non fatevi fuorviare perché la partita con i bot la vincerete quasi sicuramente. Quindi non pensate che sia tutto facile. Però insomma il gioco è dal mio punto di vista godibile. E potete giocarci fino a 4 amici. Quindi da soli potete giocare da soli o in gruppo. E stessa cosa mettete in gruppo altri 3 amici e giocate in squadre da 4. Mentre invece c'è la modalità da 1 contro anche squadre da 4. Quindi insomma fate il rambo della situazione. Da quello che ho capito. Va bene. Io concludo qui. Ho il mio abbelliamento che mi sono sbloccato. Insomma sono cose anche vendibili volendo anche su stima soldi a centesimi. Insomma per avere un po' più di credito stima. Ma il gioco è assolutamente fruibile anche in single player. In single player. In free to play. Fatemi sapere cosa ne pensate. E fatemi sapere anche se vi piace questa piccola rubrica con partite veloci di giochi magari già visti. O che non c'entrano necessariamente col mondo indie. Ragazzi alla prossima. E ciao ciao.